Incastrata dalle telecamere di video sorveglianza del comune di Piovene Rocchette, passate al setaccio dei carabinieri della compagnia di Schio, la 53enne di Sant'Orso che ha approfittato a piene mani del ricovero in ospedale di un anziano parente. In poco tempo dalla casa sono spariti alcuni abiti, 850 euro in contanti e la carta di credito con cui la donna aveva eseguito pagamenti per 726 euro. I fatti risalgono allo scorso gennaio. L'uomo che ha 70 anni e vive a Piovene Rocchette al rientro a casa ha trovato l'amara sorpresa. La donna, finora incensurata, è stata denunciata con l'accusa di furto in abitazione e in debito utilizzo di carte di credito.